Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà l'ulteriore allontanamento verso est della perturbazione giunta sull'Italia, quindi al sud ancora un po' di variabilità, ma si va verso un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale. Se controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, vediamo che sì ci saranno ancora degli annuvolamenti al sud, in parte anche sul Medio Adriatico, ma tenderanno piano piano ad allontanarsi, per il resto poco da segnalare se non qualche velatura di passaggio al nord. Anche come precipitazioni all'estremo sud sarà possibile sì ancora qualche acquazione, soprattutto nella prima parte della giornata, ma poi appunto netto miglioramento anche lì e non sono attese, pioggia significativa a quel punto da nessuna parte. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì ancora un po' variabile a inizio giornata nelle regioni meridionali, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Tirrenica, vedranno ancora degli acquazioni, ma che poi si allontaneranno col passare delle ore e per il resto, ripeto, ampie zone di sereno, magari qualche banco di nebbio o comunque foschi piuttosto densi al primo mattino sulla bassa pianura padana. Temperature diurne tra l'altro nella norma in gran parte d'Italia e per niente basse. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.